Il mondo cammina per strada, vive, è terribilmente affamato di musica d'arte e sogni, ma lo signora. A tutti loro dedichiamo note sensoriali. Se note sensoriali potesse parlare direbbe ascoltami, leggimi, guardami, toccami, annusami, gustami. È uno spettacolo dalle atmosfere magiche, concepito come la festa dei cinque sensi. I bambini portano i ragazzi, i ragazzi portano i genitori, i genitori portano i nonni, tutti insieme portano il sogno, il sogno Amitia. Vi aspettiamo, per noi sarà un piacere conoscervi. Grazie a tutti.